Ciao ad Antonio di Calzature Nucca, continuano i saldi qui a San Bonifacio nel nostro negozio in Corso Venezia numero 13 e anche oggi con questo video ti facciamo vedere otto articoli che sono particolarmente interessanti, particolarmente grintosi di questa campagna autunno-inverno e oggi la nostra attenzione è concentrata sul mondo delle scarpe tipo pedula, anfibi, con le suole un po' più grosse, quindi delle linee piuttosto grintose che adesso andiamo piano piano ad esaminare con i prezzi super scontati di questo periodo e oggi partiamo con questa pedula cittadina come vedi molto chic, particolare il contrasto tra la suola miele e la tomaia che è bianca in Nabuc lavabile, è di Stockton completamente fatta in Italia di alta qualità per via della calzata e per via dei materiali. Il design è una pedula come ti dicevo cittadina quindi può essere messa con i jeans o anche con adesso con il fustagno oppure ma può essere portata anche con i gonelloni perché è molto country come concetto cioè molto grintosa anche molto così. L'offertona di oggi è che questa pedula di partenza 209 euro è in offerta col 40 per cento a 125. ecco anche della stessa casa e con la stessa suola abbiamo anche la versione in nero pedula sempre in pelle trapuntata con questi accessori queste pietre. Nonostante l'apparenza di scarpa grossa ti assicuro che sono scarpe in realtà molto leggere come peso quindi facilmente portabili tutto il giorno anche perché essendo di tutto in pelle così non permettono al piede di mantenere la temperatura di non sudare. Ecco la versione nera di questa versione abbiamo il 37, 39 e 40 e il prezzo da 259 è di 159 quindi con uno sconto del 40 per cento anche in questo calcio. Ti sono piaciute queste? Adesso te ne faccio vedere altre due che a me personalmente piacciono tantissimo e hanno avuto anche un ottimo successo adesso andiamo a vederle. Ecco la pedulina color cuoio con inserti in camoche pelle nera la suola bellissima e microporosa molto leggera con inserti arancio e verde è una suola davvero speciale perché è tutta fresata e quindi non è un monoblocco è una scarpa che ti dà quindi una grande leggerezza e sicuramente anche molto ricercata dal punto di vista estetico pur essendo così dura come concetto. Questa scarpa ora la puoi trovare a 137 euro anziché i 229 e abbiamo ancora il 36, 37, 39 e il 40. Ecco invece la versione nera simile alla precedente ma leggermente più alta di caviglia abbiamo come vedi la suola con gli inserti rossi e naturali. Di questa scarpa di cui puoi utilizzare solamente anche la cerniera abbiamo il 39 e il 40. Il prezzo speciale è di 129 euro anziché 2,19. Bene siamo arrivati alla metà della nostra scalata verso la vetta con queste pedule e ora andiamo a vedere altri due prodotti. Ecco qui vediamo uno stivaletto tipo Beatles quindi con elastico parte per parte il materiale è capra e soprattutto abbiamo una suola vedi un po' alta sempre ma leggerissima e molto molto comoda. E' uno stivaletto che ha davvero una grande grinta visto in piedi pulito semplice ma di carattere. Questo costava 2,29 ora lo puoi avere per 137 euro e come taglie disponibili abbiamo ancora il 36 e 37 e 38 e 40. Abbiamo anche la versione tipo pedula la particolarità di questa pedula è il fatto che non serve slacciare ma semplicemente inserire sforzando l'elastico che c'è. La suola è la stessa della precedente quindi è una variante con questo laccio che in realtà non serve proprio come rilacciatura ma serve come accessorio. Questa pedula la trovi anche questa a 137 euro anziché 229. E' la volta di questo anfibio anche questo sempre con il tacco anzi leggermente più alto e anche la suola. Questo qui è in nappa quindi in vitello nappato morbidissimo la caratteristica è che ha due zip quindi zip esterna e zip interna quindi si può indossare tranquillamente senza slacciare ed è di una comodità spaziale. Abbiamo solamente 36 e 38 e il prezzo di questo articolo di fruit ed è 169 euro anziché 285 quindi una grande opportunità. E abbiamo anche le ultime due paia di questo anfibio di MoMA particolarissimo intanto è tutto cucito molto robusto molto forte molto grintoso come immagine come vedi con questi fintilacci che passano. Abbiamo la sua classica zip interna. Lo stivaletto costava 349 euro ora lo puoi avere per 209 però abbiamo solamente un 37 e un 38. Ecco come vedi anche nei saldi si possono trovare degli articoli sempre molto grintosi di qualità di alta qualità anche dal prezzo piuttosto importante però di grande valore che ti consente di stare bene avere delle scarpe veramente grintose. Quindi se le vuoi provare se vuoi farle tue sbrigati vieni negozio perché i numeri vanno via finiscono per cui ti aspettiamo in negozio ciao